Nel cuore di una notte estiva, la promessa di storie avvolgenti e di momenti incalzanti si staglia sul palcoscenico di terra amara. La voce calda e avvolgente dell'annunciatore invita a tenere il passo con le vicende, a immergersi in quel vortice di emozioni che si preparano ad avvolgere l'anima del pubblico. Da un angolo appartato della villa, il mormorio delle preghiere delle donne risuona come un coro angelico. Lì, nel tepore di un salotto elegante, si svolge la veglia funebre di Hunkar, la donna che aveva toccato le vite di tanti. Amiche, conoscenti, sospirano e pregano. Nel cuore profondo della notte, quando le stelle brillano come piccoli diamanti sparsi nel cielo vellutato e il mondo sembra trattenere il respiro, il giardino dell'antica villa diventa un teatro di sogni e segreti. La brezza leggera accarezza le foglie, creando un'armonia sussurrata tra gli alberi secolari che custodiscono in sé misteri di un tempo lontano. In questa scena incantata, la figura di Fekeli emerge dalle ombre, con i passi misurati e un'espressione meditativa. Di fronte a lui, Demir, con le mani in tasca e lo sguardo fisso sull'orizzonte, sembra quasi una statua, immobile e pensieroso. L'illuminazione soffusa delle lanterne circostanti getta ombre danzanti sul suo viso, rivelando una profondità di emozioni che va oltre le parole. Entrambi gli uomini sono avvolti dai pesi delle loro anime, dai desideri inespressi e dalle speranze non realizzate. Come Fekeli si avvicina, il distante ronzio della notte diventa più pronunciato. Grilli, cicale e altri suoni notturni compongono una melodia che enfatizza il silenzio tra i due. Ognuno ha un cuore gravato da pensieri e desideri nascosti, sogni non realizzati, parole non dette, amori perduti e opportunità mancate. Demir, sussurra Fekeli, rompendo il silenzio. La voce di Fekeli risuona con un timbro di cautela, quasi come se temesse di rompere il delicato equilibrio di quel momento. Demir alza lentamente lo sguardo verso di lui. I suoi occhi rivelano un mare di rimpianti. So cosa stai pensando, risponde con un filo di voce. I rimpianti sono come fantasmi che ci perseguitano, non ci lasciano mai veramente. Fekeli annuisce. Sono le spine più pungenti del nostro cuore, quei pensieri persistenti che, nonostante ogni nostro tentativo, tornano a tormentarci, soprattutto nelle ore piccole, quando la notte è più silenziosa e la nostra anima più vulnerabile. Il dialogo tra i due uomini diventa un ponte tra le loro anime. Un momento di condivisione in cui le barriere si abbassano e le verità nascoste emergono. Entrambi, nel silenzio del giardino, trovano un momento di comprensione reciproca, riconoscendo che, nonostante le differenze, i rimpianti sono una parte ineludibile della condizione umana. E mentre la notte avanza, il giardino, testimone muto, custodisce i segreti e le confidenze di due anime in cerca di pace. Ma in mezzo a questa atmosfera sospesa, un imprevisto. Sevda entra, e con lei, i sussurri, i dubbi, le accuse. Il passato a volte ritorna, e con esso le ombre dei segreti mai confessati. Le donne, i loro sguardi, le parole non dette. Ogni angolo della villa racchiude un pezzo di storia, una traccia di un passato che non vuole essere dimenticato. Gli occhi di Zuleia sono immersi in un mare di dolore, brillando di lacrime non versate. La sciarpa che tiene stretta tra le mani è ben più di un semplice pezzo di stoffa. È un ponte verso il passato, una connessione diretta con Hunkar, la donna che aveva profondamente segnato la sua vita. Ogni piega, ogni trama della stoffa racchiude in sé un ricordo, un momento condiviso, un sorriso, un pianto. La sciarpa diventa un simbolo del loro amore, dell'amicizia e dei momenti passati insieme. Mentre Zuleia è persa nei suoi pensieri, la figura di Fecheli emerge dal buio, camminando lentamente e sommerso nei propri rimpianti. Egli trova rifugio sotto le fronde di un antico albero, il cui tronco porta le cicatrici del tempo e le storie di molte generazioni. Fecheli stringe un fular tra le mani, simile nella sua funzione alla sciarpa di Zuleia, essendo anch'esso un legame con Hunkar. La stoffa leggera del fular vola con il vento, mentre i ricordi di Hunkar assalgono Fecheli, ricordandogli i giorni felici, le risate e i momenti di tenerezza condivisi. La notte, con il suo manto di stelle, avvolge la scena di un silenzio profondo, rotto solo dai sussurri della natura e dai pensieri sconfinati dei due protagonisti. Proprio quando il dolore sembra incombente e insopportabile, una figura sottile e tremolante emerge dall'ombra. È la nonnina, con il suo passo incerto e il viso segnato dagli anni e dalla tristezza. Con gli occhi lucidi, la nonnina si avvicina lentamente a Fecheli. Egli, sorpreso, la guarda e capisce subito la profondità del suo dolore. Lei gli svela una confessione che porta nel cuore da tempo. «Non vedo l'ora di raggiungere la pace eterna», sussurra con voce tremante, «perché la vita senza mia figlia Hunkar ha perso ogni significato». Le parole della nonnina riecheggiano nel silenzio, pesanti come macigni. Fecheli la stringe a sé in un abbraccio, cercando di offrire un po' di conforto. Entrambi piangono, condividendo il dolore di aver perso Hunkar, una figura centrale nelle loro vite. Le loro lacrime si fondono, due anime legate da un filo invisibile di amore, rimpianto e una tristezza che sembra inesauribile. La notte avanza e la luna illumina le loro figure, facendo risaltare la profondità del loro legame e la fragilità della vita. Entrambi, nella solitudine e nel ricordo, trovano un breve momento di condivisione, un attimo in cui il dolore diventa un po' meno opprimente grazie alla presenza l'uno dell'altro. Il mondo intorno sembra fermarsi, mentre Demir, devastato, cerca conforto nei luoghi della sua infanzia. Hunkar, l'anima gentile, viene onorata, ricordata e celebrata. Le parole, i gesti, le lacrime, tutto sembra confluire in un unico, grande addio. Ma la storia non è ancora finita. E come un romanzo ancora aperto, le vicende si susseguono, dense, avvincenti, indimenticabili. Il sipario si chiude, ma l'eco di queste vite continuerà a risuonare nei cuori di chi ha assistito a questa epopea di amore, passione e tragedia. Nelle pieghe del tempo e attraverso le parole, le storie hanno il potere di attraversare continenti, epoche e culture. Raccontano di emozioni universali, di sogni e paure, di gioie e sofferenze che risuonano nell'anima di chiunque le legga. E se questa storia ha vibrato in sintonia con le corde del vostro cuore, allora, cari lettori, siete diventati parte di questa avventura tanto quanto i personaggi che vi hanno guidato attraverso di essa. Ogni storia è come un viaggio, un percorso che porta con sé ricordi, sensazioni ed emozioni. E mentre vi avete camminato accanto, avete reso questo racconto ancora più speciale con la vostra presenza e il vostro affetto. Non dimenticate di mostrarlo, di condividerlo, di parlarne con amici e familiari. Perché una storia condivisa cresce, si arricchisce e vive attraverso le voci di tutti coloro che la raccontano. Il racconto, tuttavia, non finisce qui. Come ogni buona storia, tiene in sé la promessa di nuove avventure, di misteri da svelare e di emozioni da scoprire. L'attesa per il prossimo capitolo potrebbe sembrare lunga, ma è solo un breve intermezzo, un momento di pausa prima di tuffarsi nuovamente in un mondo di magia e meraviglia. E mentre attendete con trepidazione il proseguimento, vi invito a riflettere, a sognare e a immaginare. Che cosa porterà il futuro per i nostri amati personaggi? Quali sfide dovranno affrontare? E come reagiranno alle avversità che si troveranno ad affrontare? A voi, anime avventurose e lettori appassionati, auguro di mantenere sempre viva la fiamma della curiosità e dell'entusiasmo. Che la magia delle storie continui ad illuminare i vostri giorni e ad arricchire le vostre notti. Fino al nostro prossimo incontro vi saluto con affetto e gratitudine. A presto e ciao! Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara.